Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 979 di One Piece, spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Forse la parte che ci ha stupito di più in questo capitolo è proprio quella sulla copertina, cioè io dopo averla vista non riuscivo a pensare ad altro, se non a quella scena. Per carità, capitolo bellissimo, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Partiamo subito col botto, dato che inizio sempre dalla copertina. Io stavo pensando, prima dell'uscita del capitolo, chissà come andrà a finire la mini avventura di Capone, ormai le sorelle si sono incontrate e tutto è bene quel che finisce bene. Ed invece no, Oda distrugge una delle scene più belle della saga di Walkie e Kylan, ovvero la parte della morte di Pound, dove Oven gli taglia letteralmente la testa, e potete vederlo anche in questa scan, che potete trovare nel capitolo 887. Ora noi sulla copertina del capitolo 979 abbiamo visto che i Tontatta hanno trovato una Tart, sfuggita non si sa come da Totland, con al di sopra, udite udite, il corpo di Pound a faccia in giù. Ora, Oven ha un problema alla vista ed invece di tagliare la testa Pound lo ha solo ferito gravemente, e quello che vediamo in questa scan sono solo puntine a caso. O Oda ha voluto far ritornare Pound. Il motivo è abbastanza semplice, vuole far incontrare Pound con le sue due amate figlie. Io sinceramente spero in un flashback adeguato che spieghi il tutto. O, ancora più improbabile, spero in un troll di Oda, ma la vedo dura. Inoltre, quella sembra Greenbeat, quindi sono a dress rosa. Vabbè, se fosse realmente vivo, quindi c'è possibilità anche per Pedro e per tutti gli altri finti morti. Ironia a parte, ma non si sa mai. Il capitolo inizia con un altro piccolo recap. In realtà ne fa due. Uno dalla parte di Orochi, dove lui ovviamente festeggia, dato che pensa che grazie a Kanjuro sia riuscito a distruggere i rivoltosi. E dall'altra parte, vediamo proprio questi ultimi, che hanno iniziato l'assalto ad Onigashima. Kinemoro sta attaccando da est, con il suo gruppo, e Denjiro da sud, con il suo. Mentre, il sottomarino prosegue la sua navigazione subacquea, per raggiungere le spalle dell'isola e passare dall'entrata segreta. Inoltre, rivediamo Kanjuro, che ancora non è arrivato da Orochi per fare rapporto. La cosa è alquanto ovvia, dato che non è mai stato lì, quindi si è tipo perso, e gli uomini di Kaido lo hanno attaccato, perché non sanno che è lui la spia. Vi ricordate cosa è successo nel capitolo 974? Gli uomini di Kaido arrivano al porto Tokage, e sapevano che lì ci fosse una spia, ma non conoscevano il suo aspetto, né tanto meno il suo nome. Ed è qui che Kanjuro lo rivela anche ai sottoposti dell'imperatore. Quindi, a rigor di logica, tutto quadra. Oltretutto, in questa strana situazione, vediamo Momonosuke che avvista un coltello, che si trova nelle sue vicinanze. Ora la cosa che ci viene subito in mente è che userà quel coltello per liberarsi e fuggire, ma se vedete, lui è legato per bene e imbavagliato. Forse, l'unica cosa che potrebbe aiutarlo è la trasformazione nel draghetto, che, cambiando la sua conformazione fisica, riuscirebbe a liberarsi dalle griffe di Kanjuro. Questa diciamo che è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma è possibile che ci siano altre possibili soluzioni. Continuando, mentre la festa ad Onigashima si fa sempre più intensa, vediamo il solito modus operandi di Oda, ovvero quello di dividere i Mugiwara. Ma prima di ciò, Franky mostra due mezzi di trasporto, che sinceramente sono gli stessi che abbiamo visto sull'isola degli Uomini Pesce. Ma il Carpentiere afferma che in realtà sono dei nuovi modelli. Forse li avrà aggiornati e quindi gli avrà installato delle nuove funzionalità? Comunque bellissima la scena del comandante Chopper. Rufy si allontana dal gruppo per andare a cercare Kid per spiegargli la strategia, e Zoro, ovviamente, segue Rufy per assicurarsi che non faccia danni. Diciamo che ho adorato questa gag, sono sempre i soliti Mugiwara, li conosciamo bene, e queste scene così mi sono mancate davvero tanto. Sappiamo bene cosa combineranno, per quanto riguarda Rufy ne parleremo alla fine, e invece per quanto riguarda Zoro, beh, si perderà come sempre. Andando avanti, il gruppo del comandante Chopper si muove, e con lui vanno Uso, Nami, Shinobu, Carrot e Sanji che rimane sopra il branchiotank. Dall'altra parte, per colpa di un fraintendimento, Frankie e Brooke si muovono con il Kurosai. Entrambi i gruppi sono diretti alle spalle dell'isola, e rimangono da soli Jinbe e Robin. E mentre i due si incamminano, parlando della ciurma e delle loro strane caratteristiche, vediamo che qualcuno li sta spiando. Naturalmente non possiamo basarci troppo sulle silhouette che disegna Oda, perché se disegna un quadrato in ombra, e quando questo quadrato apparirà definitivamente, si rivelerà essere un cerchio. Questo è un esempio, e penso che l'abbiate capito. Ma, se volessimo comunque basarci sull'ombra di questo strano tizio, possiamo vedere che è abbastanza basso. Infatti sembra che arrivi ai cespugli, e mi sembra che abbia una forma d'uovo, e mi ha ricordato vagamente anti del film del gatto con gli stivali. Quindi, chi potrebbe mai essere? Dopo ritorneremo su questo piccolo enigma. Quindi continuiamo con il capitolo. Vediamo i tobi roppo al cospetto di Kaido. Infatti quest'ultimo vorrebbe che i sei tizi incontrassero Big Mom. Sicuramente l'imperatore vuole far conoscere la sua nuova fazione, perché credo che sia abbastanza nuova, alla sua quasi alleata. Però, a quanto pare, non è stato lui a chiamarli, bensì King. Vediamo che la calamità è stata ripresentata, ma non è stata mostrata la sua taglia. Ovviamente non vuol dire che non ce l'abbia. Comunque, a quanto pare, ogni membro dei tobi roppo, o almeno così ci ha fatto capire il mangaka, era capitano di una ciurma, ed è per questo che aspirano al posto di calamità. Inoltre vediamo anche Black Maria in piedi, e possiamo vedere che sembra essere una specie di gigantessa. Ricordate che tutti i personaggi lì presenti sono abbastanza alti. All'improvviso comunque entra in scena un endliner che possiede lo smile dello scoiattolo volante, e da giorni presenti con il programma della festa. Infatti ci sarà un brindisi che faranno le tre calamità e Fukuro Kuju. Sicuro sarà rivolto a Kaido. Poi ci sarà un discorso che faranno sia il dragone e sia Orochi. Forse vorranno parlare della situazione con il governo e del problema Vegapunk? In seguito, dopo l'arrivo della nave di Big Mom, quest'ultima e Kaido annunceranno la nascita dell'alleanza pirata più potente del mondo. Ora mi fermo un secondo. Nel precedente capitolo, Queen annuncia i figli di Big Mom. Quindi, loro, a rigor di logica, erano presenti al momento. E se fosse così, chi si trova sulla nave che sta arrivando? Forse gli altri figli? Forse Katakuri? Se poi non erano presenti, perché Queen li ha annunciati? Quindi, se non sono ancora arrivati, saranno quelli che sono venuti insieme alla mammona e che abbiamo visto non so quanti capitoli fa, ma molti. Ed infine Kaido farà un annuncio importante, che non ha nemmeno rivelato, e a quanto pare è una cosa insolita per l'imperatore essere così misterioso. E alla fine dà degli ordini ai tobi roppo, ovvero devono ritrovare il suo figlio Yamato, chiamandolo Idiota, dato che è scomparso proprio quel giorno. Ora, prima di continuare con la parte finale del capitolo, vorrei fare una piccola carrellata di immagini dove mostrerò tutti i probabili figli di Kaido, che la gente ha ipotizzato durante queste settimane. Piaciuta? Scherzi a parte, sappiamo più o meno qualcosa su questo figlio di Kaido, ovvero che è giovane, quindi potrebbe avere massimo 20 anni, quindi molto giovane in confronto a quelli presenti lì, o almeno a ciò che dice Black Maria, perché non penso che quest'ultima abbia meno di 20 anni. Alla fine, se riusciranno a trovare Yamato, ogni tobi roppo potrebbe sfidare una calamità, per lottare ovviamente per l'appena citata carica, appunto. Questa cosa penso che sia un rimando alla vecchia ciurma di Kaido, ovvero la ciurma dei pirati rox, dove la gente si uccideva a vicenda, e forse funzionava così per salire di grado. Arrivando invece alla parte finale del capitolo, vediamo come Rufi sia riuscita ad arrivare alla magione di Kaido, cercando di trovare Kid per aggiornarlo sulla strategia, è sempre il solito. Soprattutto riconosce Queen, e assiste allo spreco di cibo dei subordinati di Kaido, e ripensa alla povera Tama, e questo fa andare su tutte le furie cappello di Paya. E il capitolo finisce qui. Sinceramente, a parte la copertina che mi ha fatto arrabbiare un po', anzi, non un po', ma molto, il capitolo non è stato niente male, abbiamo visto la solita divisione dei Mugiwara, e come abbiamo visto, anche i Tobi Roppo dovranno forse dividersi per trovare Yamato, quindi ciò implica che forse potrebbero incontrare i Mugi, tra cui Zoro, o anche la ciurma di Kid. Però tutti loro sono vestiti da sottoposti di Kaido, ed è possibile che non facciano niente. Parlo dei Tobi Roppo, ma sappiamo che alcuni di essi sono teste calde, come tra l'altro Rufi, ora che si è arrabbiato, potrebbe davvero distruggere la copertura, oppure verrà fermato da qualcuno che riuscirà a calmarlo, anche se la vedo dura, e arrivando a Yamato, forse è proprio lui quel personaggio in ombra che stava spiando Jinbei e Robin, dato che è sparito proprio quel giorno e stava quindi gironzolando per l'isola, e improvvisamente vede questi strani tizi, e colpito dalla curiosità decide di seguirli. Ed è anche probabile che Oda si sia ispirato a Yamato Takeru, per creare il figlio di Kaido, ma ciò non vuol dire che abbia copiato palesemente il personaggio, ma potrebbe solo essersi ispirato a lui. Comunque vi lascio la storia di Takeru in un link qui sotto in descrizione. Comunque sia, sono molto curioso di vedere come andranno le cose, dato che la situazione inizia a farsi ancora più interessante, e soprattutto sono curioso del discorso che farà Kaido che riguarderà il suo figlio idiota. Il video è finito, vi ricordo di seguirmi su Instagram se vi va, troverete il link in descrizione e nel primo commento. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pampling, e usando il codice ILGUN91 avrete diritto al 20% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo, non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e AnimeTubers, e noi ci sentiamo in un prossimo video.